Cristiano Guerra per tutti, Crisbus del team GD Poker vive un bel momento perché alla fine della giornata è ancora in pista nel torneo 2500 No Limit Frizz Out e peraltro Sopraeric. Sì, il torneo ho finito sopra Average, diciamo che ne ho fatti sei di tornei delle USOP e ho fatto un dei due e due bolle quindi speriamo insomma di non ripetermi perché ancora non ho fatti TM però questa è la penultima chance perché c'è questa poi c'è il main event comunque ho chiuso la media a 22.000, io a 31.000 calcolando che a metà ultimo livello era a 13.000 ho forzato molto il gioco con le ultime mani per fare o dentro o fuori insomma o double up oppure riuscire a tornare domani con uno stack che comunque mi consentirà di giocare, di avere un po' di mano a margine di manovra del gioco e niente siamo qui fiduciosi quando si finisce il torneo diciamo in crescita anche se tutto il torneo è iniziato a 30.000 al quarto livello, sono sceso fino a 13.000 e l'ultima mezz'ora ho recuperato quindi va bene così, siamo fiduciosi, speriamo bene domani Jack Giochi per vincere o giochi per andare a premio? No, no, io gioco sempre per vincere, comunque ogni giocatore dovrebbe giocare per vincere poi è ovvio che magari se uno fa un torneo dove va in 10.000 dollari e dovresti sempre giocare per vincere però se magari fai un torneo così alto perché hai fatto un satellite così ti pesa andare in demone e quindi magari ti chiudi un po' però anzi bisogna sfruttare la paura degli altri nella bolla per cercare di accumulare il PC possibile in modo che dopo la bolla riesci comunque a comandare un po' il tavolo o a avere lo stack giusto per andare avanti, ogni giocatore lo dovrebbe fare Grazie a tutti